Io sono Roberta Grassiri, sono cittadina residente di Albino, in questo momento particolare io rappresento il pensiero di molte persone che si sono costituite in un gruppo ProVigor, che sono per la maggior parte fruitori della struttura del centro sportivo, ma anche non. Ci siamo costituiti in comitato perché il centro sportivo Vigor aveva annunciato, sapevamo che avrebbe chiuso, avrebbe finito il mandato della gestione vecchia e questo era risaputo. Chiedevamo all'amministrazione comunale con la costituzione di questo comitato che a fine gestione ci fosse un tempo per valutare concretamente la possibilità di affidare la gestione magari o al comune stesso o indicendo magari un bando. Semplicemente questo chiedevamo perché molti fruitori della struttura si sono visti con lo smantellamento del centro privati di un servizio che secondo noi è essenziale. Disagio doppio possiamo dire quindi sia per chi usufruisce di questo che per chi abita in zona che vedrà nuove case, nuovo movimento. Questa manovra sicuramente ne mette in atto altre che a catena creano disagi perché la realizzazione di nuovi centri residenziali va ad intensificare sicuramente il traffico che è già abbastanza intenso nel paese di Albino. Non ci pare che ci sia questa grossa necessità di abitazioni. Noi abbiamo qui un capitale che ha sempre lavorato negli anni e demolirlo secondo noi è una scelta... Di fronte a questa scelta qua è evidente che è stata anteposta la politica del profitto però in questo modo qua noi rischiamo veramente di portare ad una sterilità culturale cioè al centro di tutto il profitto e la persona venne messa in secondo piano. Tra l'altro in un momento storico in cui soprattutto i giovani si stanno muovendo in vista dei cambiamenti ambientali in battaglie per tutelare la salute e l'ambiente e ci sembra a tutti una scelta anacronistica quella dell'amministrazione comunale di non prendersi almeno il tempo fisico di fare delle valutazioni per poter dire non c'è stata la possibilità di una nuova gestione il centro si smantella. No. Nel momento in cui la gestione ha conclamato la fine era pronta la richiesta da parte della proprietà di un cambio di destinazione d'area e questo è stato tra virgolette ufficiosamente accordato subito. C'è la volontà di non portare avanti un servizio che i cittadini chiedono anche perché il disagio del traffico poi si riversa anche sulle strade limitrofe. Abbiamo dei centri come Casnigo e D'Alzano che adesso sono saturi perché ovviamente tutti quelli che non hanno potuto trovare un servizio qua si riversano su altre strutture. È una scelta sconclusionata secondo noi quella di non prendere in considerazione almeno prendere in considerazione la richiesta che era stata fatta. Tra l'altro noi come comitato a novembre abbiamo fatto una raccolta firme. La popolazione ha risposto in modo sollecito e ne abbiamo ricolte 900. Qualcosa vorrà dire secondo noi.